Sono Alfredo Razzano e ho avuto la grande fortuna e responsabilità di conoscere San Cosè Maria nella primavera del 1971. Mia moglie ed io fumo ricevuti dal nostro padre e aspettavamo la seconda figlia in quella circostanza e quindi il nostro padre appena vide che mia moglie era incinta, benedisse la bambina e poi sapendo che era la seconda, il secondo figlio, ci chiese la fotografia del primo per poter benedire anche il primo e né io né mia moglie avevamo la fotografia e quindi rimanemmo molto male di questa cosa e questo mi ha insegnato però, io ci ho pensato poi tante volte a questo fatto, alla materializzazione della vita interiore. Voler bene una persona significa anche averne una fotografia, qualcosa che ce la ricorda sulla scrivania, sul luogo di lavoro e questo era un messaggio che San Cosè Maria ha sempre ripetuto, la materializzazione della vita interiore. In quel periodo sia io che mia moglie eravamo assistenti all'università, io poi ho cambiato lavoro, ho fatto altro ma in quel momento eravamo tutti e due assistenti all'università, ci chiese che lavoro facevamo e ci parlò con un entusiasmo che non ho mai sentito prima né dopo dell'università, del ruolo fondamentale che si può avere nella formazione dei giovani e ci diede molta responsabilità su questo, su quello che potevamo fare per la gioventù. Questa era una caratteristica di San Cosè Maria, apprezzava tutti i lavori e a tutte le persone dava entusiasmo per quello che si stava facendo, per l'importanza di quello che si sta facendo. In quella circostanza ci parlò dell'università, so poi che l'università era una sua grande passione. Questi sono i due ricordi fondamentali che io ho di questo incontro, a parte l'affetto e la gioia, e quello che tanti altri hanno detto ma che avendolo visto di persona lo posso testimoniare, è come attraverso la figura di nostro padre arrivasse diretto a chi lo vedeva il nostro Signore. Si vedeva che attraverso di lui passava qualcosa di più grande e ancora di lui è il Signore.